Paolo Maldini rompe il silenzio e parla della fine dei rapporti con la sua squadra del cuore e che lo ha portato nell'Olimpo del calcio. Restate a guardare il video per sapere cosa ha detto. Paolo Maldini, con franchezza e senza mezzi termini, rompe il silenzio che durava da sei mesi dalla sua separazione dal Milan, orchestrata da Gerry Cardinale e Giorgio Furlani. In un'intervista a Repubblica, Maldini svela dettagli che gettano luce su una situazione interna al club, suscitando scalpore, soprattutto per quanto riguarda alcuni giocatori ancora in maglia rossonera, come Rafa Leao e Theo Hernandez, e sulla gestione di Stefano Pioli. Maldini critica apertamente l'attuale dirigenza del Milan, sottolineando la mancanza di rispetto per l'identità e la storia del club. Svela che la decisione di licenziare lui e Massara era stata presa mesi prima e il contratto Geli era stato proposto in modo da evitare polemiche impopolari dopo la vittoria dello Scudetto. Esprime delusione per la cessione del club a 1,2 miliardi e denuncia la mancanza di rispetto verso le persone coinvolte. L'ex capitano del Milan critica aspramente la gestione di Paolo Scaroni, accusandolo di non incoraggiare i giocatori e il gruppo di lavoro. Rivendica il suo ruolo e quello di Massara, respingendo l'accusa di non aver condiviso obiettivi e strategie. Maldini afferma che il Milan merita una leadership che tuteli gigli interessi del club e critica Scaroni, Gazidis e Furlani. Maldini affronta le decisioni di mercato, difendendo la scelta di giovani talenti come De Ketteler e rivendicando il successo ottenuto sotto la sua gestione, che include uno Scudetto dopo 11 anni, tre partecipazioni consecutive alla Champions League e un bilancio positivo dopo 17 anni. Infine, Maldini difende Stefano Pioli, riconoscendo il suo ruolo cruciale nella crescita dei giovani calciatori e sottolineando la frequenza degli incontri e dei confronti nel suo ruolo di responsabile dell'area tecnica. L'intervista di Maldini rivela un quadro complesso e intenso dietro le quinte del Milan, alimentando la curiosità e la discussione tra i tifosi e gli appassionati di calcio.